da lì? eh perchè se vengono dietro un po' di come sa che non riesco a prenderli no perchè è quello guarda vai, è una roba tutta eh, guarda Sibo Siamo pronti? è la prima di Mesa è la prima di Mesa non sulla testa non sulla testa non sulla testa come no? ah, lì sui non lì no dai 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 la posizione Non c'è più la difesa del G, non so se riesco a spiegare, però è preciso, è deciso, può essere più il G. E' d'aglia, e' d'aglia, anzi non c'è più. Grazie. E vince quest'incontro l'atleta all'angolo blu, Zampanini.